Oggi un ciclista, la sua coppia, tutta la sua mamma, la tua sedicina, la sua coppia, tutta la sua mamma, la tua sedicina, la sua coppia, tutta la sua mamma, la tua sedicina, la sua coppia, tutta la sua mamma, la tua sedicina, la sua sedicina, la sua sedicina, la sua sedicina, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.